La tecnologia ROV ha completamente rivoluzionato lo studio della biologia marina perché ovviamente ha permesso di fare tutta una serie di immersioni con tante ore di operatività a profondità non facilmente raggiungibili dai subacquei e sicuramente non dalla subacquea ricreativa. Questo ovviamente ci ha permesso di scoprire un mondo che era in qualche modo solo immaginato e che invece si è rivelato ricco di biodiversità. Con questa tecnologia noi siamo in grado di osservare dal vivo gli organismi, quali sono le associazioni tra le varie specie e le relazioni ecologiche che si instaurano tra di loro. Grazie a tutti!